Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale YouTube Juventino Vero. 3 settembre per noi è come il giorno della memoria. 3 settembre ci lasciava di un infausto 1989 il nostro amato e unico vero capitano, Gaetano Iscirea. Anche quest'anno lo voglio ricordare perché sono passati tanti anni ma lui è rimasto sempre nei nostri cuori. E' inutile che mi soffermo nel vantare i dati, le conquiste professionali sul campo ottenuti da questo giocatore. E' incommensurabile. Incommensurabile come uomo soprattutto e come giocatore. Grazie di tutto Gaetano.